Neri, adesso io direi di leggere, perché capito, così siamo più chiari, per i sostenitori, andare sul sito, eccetera, posso leggere quello che è la mia parte? E leggere la domanda, poi dopo leggere la domanda, va bene. Cari amici, c'è scritto, come sapete sono testimoni della Lega del Filodoro da oltre 25 anni. E' un premio anzianità, io ce n'ho pochi di più. Oggi la Lega è impegnata in un grande progetto, la realizzazione di un centro nazionale per le persone sordo cieche. Centro nazionale, unico in Italia. Unisciti a me, scopri come entrare a far parte del mio network sul sito, questo dobbiamo dire, ce lo dividiamo, www.centro.lega del Filodoro.it Io ho fatto la parte più difficile. Adesso, insieme possiamo certamente fare tanto. Io non ripeto le stesse cose, perché più o meno fino a un certo punto è la stessa cosa. Cari amici, devi dire. Cari amici, vicini e lontani, no, mi sto allargando. Da quest'anno sono testimoni, anch'io, della Lega del Filodoro. E quindi, a fronte dei suoi 25, io uno conto. Però, con quest'uno, io ce lo metto tutto. E voi che siete lì, cliccate, come si fa? Adesso invertiamo l'indirizzo, perché adesso faccio io la parte più facile. www.centro.lega del Filodoro.it Allora, lì potete entrare, fare donazioni, invitare i vostri amici a farle, colorare simbolicamente un mattoncino per la costruzione di questo centro nazionale a Osimo. Quindi, contiamo sulla vostra collaborazione. Per i bambini e anche gli adulti sordocechi. Ripetiamo, www.centro.legadelfilodoro.it Tutti, molto obrigado. Ciao.